Noi abbiamo fatto anche con i residenti del posto varie richieste, la SIOT, varie emozioni, però la risposta è sempre quella, non fa male. Non è un pericolo per la salute, lo dice l'azienda e tanto dovrebbe bastare, ma i cittadini non ci stanno e pertanto hanno voluto rivolgersi a Telequattro con l'auspicio che finalmente, dopo decenni, si possa individuare una soluzione al problema delle emissioni sgradevoli all'olfatto, ma non solo, che frequentemente si sprigionano dal pontile della SIOT, la società dell'oliodotto transalpino. Succede spesso, succede sia col caldo sia col freddo, quando c'è un po' di vento, l'odore si sente anche in zona Borgo San Sergio, quindi si sposta anche, oppure zona Aquilinia, però diciamo che non è una cosa legata né al clima né all'arrivo delle navi. Oltre all'odore molto fastidioso, spiega Cinque Palmi, i sintomi che si manifestano vanno del bruciore in gola, alla nausea e perfino con atti di vomito, ma prosegue, ho la prova concreta che l'azienda, se lo volesse, ha la capacità di risolvere il problema. Ogni qualvolta che c'è l'odore, io stesso telefono in SIOT e faccio presente, in giro di qualche minuto l'odore svanisce, quindi vuol dire che anche in SIOT sono al corrente di queste cose qua e sanno cosa fare e cosa non fare. Nel corso degli anni abbiamo fatto un monitoraggio costante delle emissioni, compilando anche delle schede, prosegue Cinque Palmi, e abbiamo presentato diverse petizioni al comune di Dolina, ma nulla è accaduto e quindi adesso diciamo basta, vogliamo delle risposte. Il primo problema è sapere cosa noi stiamo respirando, cosa la SIOT dice di fare, perché per il momento la situazione mi sembra sempre peggio, tante parole, tante promesse, ma di concreto ancora niente.